Ad incastrarlo sono state le telecamere di videosorveglianza che mostrano chiaramente il tentativo di rapina. Anche grazie all'ausilio di queste immagini i carabinieri di Pescara hanno arrestato un 35enne di Lanciano accusato di tentata rapina al supermercato Todis di Viale Amendola a San Buceto in provincia di Chieti. L'uomo avvolto scoperto ed armato di taglierino in prossimità della chiusura del negozio verso le 19 ha minacciato la cassiera per farsi consegnare il denaro provento della giornata. La ragazza però coraggiosamente si è rifiutata di eseguire quanto richiesto dal malvivente che visto sfumare il colpo si è dato alla fuga a mani vuote. Particolare il modus operandi il 35enne ha parcheggiato l'auto davanti l'esercizio commerciale ed incurante delle telecamere a volto scoperto è entrato nel supermercato arma in pugno. Assieme alle immagini delle telecamere a circuito chiuso fondamentale è stata la testimonianza della cassiera che ha descritto sia la persona che l'auto con la quale ha tentato il colpo. Le ricerche sono scattate immediatamente nel giro di un paio d'ore l'uomo è stato trovato nel parcheggio del Lidl di via Tirino a Pescara. Fermato e perquisito è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina, soldi incontanti di piccolo taglio e un taglierino con lama aperta occultato nel vano portaoggetti dello sportello lato guida. L'uomo ormai scoperto ha ammesso subito ai militari le proprie responsabilità e dunque è stato arrestato e portato nel carcere di San Donato.